La principale novità introdotta dal decreto Covid varato ieri sera riguarda l'estensione dell'obbligo vaccinale a tutti gli ultra 50 anni. Per loro fino al 15 giugno, compreso quindi chi compirà gli anni entro questa data, non sarà più possibile evitare di sottoporsi alla profilassi. Tra questi, ai lavoratori, che siano dipendenti pubblici, privati e autonomi, sarà quindi chiesto di esibire il Super Green Pass. A coloro che sceglieranno di non adeguarsi all'obbligo sarà combinata una sanzione di 100 euro ad ogni controllo. O se lavoratori, la sospensione dal posto di lavoro. Nel caso in cui un lavoratore ultra 50 anni dovesse ottenere dal proprio medico di base un certificato di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid, non solo ovviamente non potrà essere sospeso, a differenza dei colleghi Novax che dovranno rinunciare alla retribuzione, ma il governo invita anche i datori di lavoro a spostare i dipendenti senza vaccino per cause di forza maggiore a mansioni diverse da quelle abituali, senza decurtazione della retribuzione, per evitare il rischio di diffusione del contagio. Per tutte le aziende che dovessero trovarsi costrette a sospendere alcuni dei propri lavoratori sprovvisti dalla versione rafforzata della certificazione Covid, il governo ha introdotto la possibilità di sostituirli temporaneamente, estendendo la misura fino a questo momento prevista solamente per le piccole e medie imprese, fino a 15 dipendenti. In ogni caso la sostituzione rimane di 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Nel nuovo decreto viene introdotta anche l'estensione del Green Pass base, ottenibile non solo dopo vaccino guarigione ma anche con l'esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle ultime 48 ore all'utenza di tutti gli uffici pubblici e di tutti i servizi. Vale a dire due settori finora rimasti completamente esclusi, se non per i dipendenti degli stessi, dai meccanismi del certificato verde. In sintesi, a partire dal primo febbraio per andare in banco alle poste sarà richiesto di esibire il QR code, inclusi anche i cosiddetti servizi alla persona. Vale a dire che dal prossimo 20 gennaio, tanto per accedere dal parrucchiere quanto per l'estetista, sarà necessario esibire la certificazione verde. A dispetto delle anticipazioni però, non nella sua versione rafforzata, ma solo in quella base. Dal 20 l'obbligo del Green Pass base entrerà in vigore anche per accedere alle attività commerciali. Tuttavia, nel testo del decreto viene specificato come entro 15 giorni dall'approvazione verrà stirata una lista più precisa delle attività coinvolte dalla nuova misura. Il nodo da sciogliere infatti riguarda supermercati, farmacie, negozi di vendita al dettaglio, alimentari, tabacchi ed edicole, ma considerati i servizi essenziali e quindi andrebbero esentati. Con il decreto il governo modifica anche la gestione dei casi covid da scuola. In quelle dell'infanzia con un positivo si va in quarantena per 10 giorni, mentre alle elementari con un caso si applica la sorveglianza con testa al primo e dopo 5 giorni, mentre con due casi si resta a casa per 10 giorni. In media e superiori invece con un caso si resta in classe, con l'autosorveglianza e l'utilizzo della FFP2, mentre con due casi vanno in dad per 10 giorni solo i non vaccinati e chi è guarito o vaccinato da più di 4 mesi senza aver fatto il booster. Con tre positivi invece tutta la classe è a casa per 10 giorni. Un punto quest'ultimo che ha visto salire la tensione nell'incontro tra governo e regioni, poiché nella bozza del decreto la didattica a distanza era prevista con quattro casi. Alla fine la norma è stata cambiata in Consiglio dei Ministri e la richiesta dei governatori è stata accolta.